Giulio Reggeni, chiediamo subito misure più severe per arrivare alla verità. E' la dicitura esatta della petizione online sulla piattaforma www.change.org che il Comitato Verità per Giulio Reggeni, il Tiguglio non dimentica, ha lanciato questa mattina. Un'iniziativa che parte dal territorio locale per assumere una dimensione internazionale, per tenere alta l'attenzione ma soprattutto chiedere la verità sulla tragica vicenda del giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto. Una petizione che si aggiunge alle diverse iniziative già messe in campo dal Comitato, che ha già visto l'adesione di tantissime personalità che con il loro apporto vogliono chiedere giustizia. Abbiamo quasi una specie di dovere di costituirci parte civile in un ideale processo che accerti cosa è successo a questo ragazzo e perché è stato così selvaggiamente torturato e ucciso. Siamo tutti italiani come lui, non possiamo far passare sotto silenzio una cosa del genere. Nella petizione si chiede in particolare che le autorità egiziane collaborino alle indagini che il governo italiano dichiare l'Egitto un paese non sicuro, che siano interrotti i rapporti commerciali e che sia immediatamente sospesa la fornitura di armi. In università molti docenti hanno messo sulla porta dei loro studi verità per reggele. E' importante questa testimonianza nei confronti dei ragazzi. Ma credo che questa presa di posizione sia anche di aiuto a coloro che non sono pochi che in questi paesi sono impegnati a costo della loro vita sul fronte della libertà. Un'iniziativa portata avanti in stretta collaborazione con la famiglia del giovane ricercatore ucciso e che vuole coinvolgere anche e soprattutto i giovani, sull'esempio di quello già realizzato a Rappallo con gli studenti del liceo da Vigo, che hanno realizzato un video proprio per chiedere verità per Giulio Reggeni. Siamo sempre stati in contatto con loro, anche la petizione che lanciamo oggi è condivisa ed è proposta insieme con loro. Quindi questo credo che sia un altro fatto estremamente importante, proprio perché ci permette di essere anche il più incisivi possibile.